Domani è martedì 29 aprile la chiesa fa memoria di Santa Caterina da Siena. Le previsioni meteo di Telenuova benvenuti. Insiste l'instabilità diffusa su gran parte del paese per l'azione di una moderata circolazione depressionare sulle aree centro-meridionali. Piogge e rovesci interesseranno domani soprattutto le regioni centro-orientali del nord, l'Emilia-Romagna, buona parte del centro, la Sardegna, le aree del basso Tirreno e il nord-est della Sicilia. Piogge irregolari sono previste sul centro-nord della Puglia. Va meglio sui settori interni della Campania, sulle aree interne della Lucania, sui settori ionici e anche su buona parte della Sicilia, oltre che al nord-ovest. Il flusso di aria umida tenderà ad attenuarsi sulla Campania, tuttavia il tempo resterà a tratti variabili per il passaggio di addensamenti nuvolosi che potranno causare piogge isolate al mattino. La nuvolosità sarà intervallata da schiarite ampie nel corso della giornata. Le temperature saranno stazionarie con venti moderati da ovest mentre il mare resterà mosso. Grazie per la visione!